ed io direi proprio che ci siamo e quindi hello boomers e benvenuti ai ragazzi di grano zero ciao anche a tutti i follower ciao e chiedo scusa per i 16 minuti di ritardo ma colpa mia e avevo spento il computer perché ho detto così è bello pronta per farla live poi per farlo ripartire ci ho messo è veramente una vita che mi doveva fare gli aggiornamenti ma non sono l'unico che ha avuto problemi di aggiornamenti col computer a quanto pare ma anche noi guarda il solito culo non mi preoccupate adesso condivido la live su facebook e intanto mentre arrivano i regas che ci stanno guardando e poi direi di partire a cannone allora che poi avete il doppio facebook grano zero per ristorante e uno dedicato a grano zero tv certo abbiamo deciso di dividere le cose perché sono due cose non proprio similari ma che comunque si incontrano benissimo nel nostro locale e io ben conosco infatti ho avuto l'onore di essere ospite da voi a mangiare i pizzoccheri e ma devi anche tornare un po che manchi certo adesso dai intanto stanno arrivando gli amici in chat salutiamo marco divertimenti che ha fatto oggi un fighissimo ripofo di bullion tanto qua ci conosceremo tutti e l'invito a partecipare alla chat ma c'è anche chi non conoscerà questa realtà di grano zero quindi volete fare brevemente un vostro storico parlarvi locale come natale idea e tutto quanto in modo da introdurre chi non vi conosce io intanto mangio un po di salano che vabbè allora parto io praticamente noi siamo due amici che si sono incontrati un giorno presso un ristorante che non era nostro io essendo più grande di lui non si vede ho iniziato a insomma a insegnargli un po le basi della cucina da lì un po abbiamo scoperto che avevamo una passione in comune che era quello per la musica e praticamente lavoravi già nella ristorazione eh sì sì ormai sono 23 anni che sono nella ristorazione sono stanchissimo di esserci ma la passione mi porta a non mollare mai e comunque niente da lì abbiamo deciso quando possibile col nostro lavoro di andare a ogni concerto che passava di lì da band più blasonate a band un po più di nicchia ma insomma ci siamo fatto tutti i concerti che potevamo fare finché un giorno il locale dove lavoravamo ha chiuso dopo un anno in cui ci siamo visti poco abbiamo deciso ma perché non apriamo noi un locale dove possiamo mettere la nostra passione per il cibo e per la musica tutto insieme e così è nato grano zero e e since da quando è che siete aperti siamo aperti siamo entrati nel sesto anno quindi 2015 allora qui stanno arrivando in tantissimi salutiamo ma sei good salutiamo i wanna be your dog grazie a tutti domanda mia curiosità e negli ultimi dieci anni hai visto un forse un interesse forse 10 15 anni maggiore verso la ristorazione adesso è diventato quasi un dream job fare il cuoco e fare le lavorare in cucina eccetera e adesso è proprio una cosa molto molto ambita e guarda è un lavoro che comunque porta mille sfaccettature ci si può inventare veramente mille cose fare tantissime cose non proprio inerenti a quello che può essere stare in cucina chiusi quindi ci sono da colleghi che vanno a fare qualche domicilio da chi comunque ha interpreso una carriera verso la tv chi invece comunque va in giro a far consulenza cioè ormai il mondo del cuoco non è più prettamente legato a stare dietro i fornelli ma comunque spazia verso tantissime altre cose come l'hai visto grano zero tv adesso arriviamo anche lì come l'hai visto però è qui proprio perché eh non mi capita di avere rappresentante del mondo della ristorazione spesso nel ehm nel podcast come l'hai visto questo diventare in qualche modo cool della figura del cuoco grazie a sicuramente i reality e i cuochi in televisione su youtube però e come la come l'avete come l'hai vissuta questa eh trasposizione io 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 vai vai io la so io la so io la so in realtà tutti pensano che fare il cuoco sia lavoro facile ma noi vediamo passare parecchi ragazzi che arrivano e sono convinti di non dover iniziare dal pelare le patate per assurdo e probabilmente questa cosa del cuoco come lavoro dei sogni è dovuta a un fatto come dicevi tu eh dei media della tv che fanno sognare questi ragazzi tutte le trasmissioni si possono dire il nome delle trasmissioni no certo puoi dire quello che vuoi ok perfetto quello che vuoi cioè tipo dicono va che bello vado in televisione faccio come Gordon Ramsay che insulta la gente e guadagno milioni di dollari no devi pelare montagne montagne di patate piangere su chili e chili di cipolle forse tonnellate quintali quanti quintali di cipolle hai pelato io ma ma rimorchi agricoli di smisura in ventitré anni veramente tantissime se dovessi pensare non non riuscire a dare una stima e c'è molti giovani sono interessati a questa carriera ma ci sono tanti giovani interessati ma è giusto un interesse secondo me un po superfluo perché poi quando si rendono veramente conto che un lavoro parecchio di fatica che porta via tutto il tempo libero che tu puoi avere a disposizione gettano quasi subito la spugna perché ti parlo da io che ho contatto molto con i giovani o nipoti e non vogliono fare cacciatori vogliono fare i cuochi ma adesso penso che sia così per i giovanissimi intendo eh sì 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 guarda crescono in un mondo magari molto multimediale molto di tv e vedono magari nel lavoro del cuoco un lavoro d'oro però poi in realtà quando quando si buttano in questo lavoro secondo me un po scornano col fatto che è veramente molto impegnativo e secondo me pochi resistono dall'avere un'attività un ristorante e come riuscite a come siete riusciti prima di arrivare a grano zero che poi il tv che è la domanda che arriva dopo a coadiuvare la vostra il lavoro e la vostra clientela classica con il punk rock perché io sono stato da voi e vedi da una parte il basso brandizzato sono effetto poster di qua poster di là insomma è proprio un locale che ha una doppia sfaccettatura che un cliente normale può essere un classico locale bello eccetera chi viene invece dal mondo del punk rock vede tutte le finestre e dice cazzo qua sono a casa risponde Stefano a questa domanda ma allora in realtà questo è un segreto che svegliamo questa sera ci sono tantissimi clienti che nel loro intimo ascoltano il punk rock arrivano e ti dicono cazzo i Pennywise e tu gli dici sì ma magari ti vedi l'imprenditore in giacca e cravatta o il banchiere e dici come fai a conoscerli? Eh tempi d'oro e quindi scopriamo che tantissima gente in realtà ha avuto un passato da punk rocker comunque noi nel nostro locale insomma secondo me siamo riusciti a renderlo così proprio perché abbiamo coltivato al meglio le nostre due passioni quindi cibo e musica e siamo riusciti a creare questa mescolanza all'interno del locale che chiunque entra comunque si sente a casa e si innamora della location che effettivamente è un po' fuori dal comune essendo arredata per non essere un ristorante un po' in maniera bizzarra tra virgolette però poi comunque si innamora della cucina e insomma vi salutiamo Sofia Etibus che mi sa che è una vostra amica e che cucina proponete a questo punto diciamo anche questo perché c'è chi non vi conosce e che cucina proponete? Io, io, noi siamo romantici ci piace fare la cazzuola ferragosto i brasati, i pizzoccheri, i polente, cucina tradizionale comunque della Lombardia con le ricette dei nonni perché contiamo, cioè crediamo molto nel portare avanti le tradizioni di fatti lui che è più anziano è imparato a fare le ricette dagli anziani e cerca di... L'incadine diretta! Guarda, meraviglia, qua come mi trattano bene a me ma solo perché sono il più anziano mi prendono sempre in giro, solo per quello e cerca di tramandarle anche a chi ogni tanto viene a darci una mano per portare avanti un discorso di tradizione che è secondo noi la cosa più importante quindi cucina tradizionale Perfetto, allora però durante il lockdown avete fatto uno step oltre ed è nato questo nuovo progetto che si chiama Grano Zero TV e volete spiegarmelo anche a me perché questi ci hanno sentiti però, ho visto le puntate eccetera però non ho chiesto niente di come è nato tutto quindi me lo raccontate anche a me come a chi ci vede adesso su Twitch e chi ci vedrà su YouTube dopo domani Beh, guarda, semplicemente è un progetto che nasce da menti malate nel senso che siamo una compagnia di amici che un bel giorno si è trovata tutti assieme e ho detto ma perché in periodi di lockdown dove le band purtroppo non suonano, sono tutti fermi hanno tutti voglia di suonare ma non possono avere un pubblico perché non creare qualcosa assieme che possa unire questa cosa e far suonare le band al vivo e portarle in casa della gente quando le persone non potevano uscire di casa per andarsene a vedere dal vivo e così tutti gli amici che hanno collaborato con noi quindi Professional Punkers, Irritate People, La Musica, Blue House Studio che ci tengo a menzionarli perché stanno facendo veramente un lavoro d'oro anziché dirci ma voi due siete scemi ci hanno detto no no, lo facciamo e da lì è nato questo progetto e che cosa consiste per chi non l'ha ancora visto? è una sorta di format tv abbiamo pensato di farlo un po' in stile anni 80 quindi magari con l'intervista la parte musicale, suonata sempre nel nostro locale ma abbiamo fatto l'aggiunta di mettere dei giochini da far fare alle band un po' divertenti, un po' originali che insomma fanno divertire sia le band che sono lì a giocare che anche chi è a casa perché insomma si appassiona e si diverte a guardare quello che sta succedendo in studio ve l'ho fatto in diretta? allora sono puntate registrate perché comunque anche col discorso di live esatto e poi non si potevano anche fare assembramenti e soprattutto la somministrazione perché se facciamo venire i gruppi e non gli diamo da bere è un disastro è un disastro e allora niente registriamo le puntate al locale chiuso e come fate? usate la sera di chiusura del turno settimanale? usiamo la domenica la domenica, ok? ci troviamo la domenica mattina e ogni volta prendiamo su grandi insulti perché ovviamente per band che sono abituati a smediarsi magari nel pomeriggio perché suonano a notte fonda alzarsi la mattina presto per venire a suonare il pomeriggio presto da noi è una cosa veramente strana perché poi la domenica sera siete aperti regolarmente no, no, siamo chiusi siamo presi proprio la domenica come giorno di registrazione quindi che cuore che nel vostro giorno libero andate a lavoro per fare avanti il progetto per portare avanti il progetto questa è un'altra piccola goccia della nostra passione che insomma ci porta a fare questo e vediamo comunque abbiamo visto che insomma riceve anche parecchio consenso tra il pubblico perché la gente comunque che segue vi appoggiate a youtube come metodo di distribuzione sì esatto c'è un canale di professional punkers dove vengono caricate tutte le puntate e poi comunque c'è la pagina facebook dove vengono caricate sempre le puntate dedicate dove si possono vedere e rivedere tutte le volte che si vogliono ottimo, ottimo come vi state trovando a essere entrati nella community di facebook di youtube? vai Stefano io sono anni che sguazzo nella community di youtube sì sì ma la produttore di contenuti è l'altra faccia della medaglia ah no ma no perché io sono anni che ci sguazzo ma non mi caga nessuno però no è divertente soprattutto perché mi fanno fare un po' quello che voglio e quindi mi fanno disturbare i gruppi assieme a un altro mio carissimo amico che è verme dei pancoscenico dei twist col verme ex pancoscenico e insieme ci prendiamo anche a sculacciate tutto per disturbare i gruppi e quindi per me va benissimo io mi diverto ci si beve e basta però l'abbiamo presa così come divertimento è così che bisogna prenderla quante punta che avete fatto ho visto e Bad Frog e Enchused poi ho visto che sono venuti vivi ora se non l'ho ancora vista quella e poi ce ne sono altre poi gli Slurmies ah gli Slurmies quella ancora mi manca questa settimana dovrebbe esserci quella con i peggiori elementi pessimi elementi pessimi elementi esatto poi dopo abbiamo tutte le altre ma sono ancora con band top secret quindi non si può sguerare il nome di nessuna band quindi come format cioè tanto si inizia provando e poi si va avanti e se la cosa piace e se la cosa piace e se ne fa quasi un progetto quindi il progetto pensate di farlo andare avanti guarda ti dico la verità la cosa incredibile è che veramente tante persone di vari gruppi ci scrivono perché vogliono venire e partecipare al format e ovviamente la prima stagione è effettivamente tutta piena e quando andrà più o meno la prima stagione e dovrebbe finire verso metà ottobre primi novembre con dodici puntate ok in più l'ultima puntata ci sarà una band una super band fatta da ve lo spiego internazionali proprio in cui estrarremo anche il famoso premio perché in questo format abbiamo inserito anche un premio che è una cena nel nostro ristorante per due persone a chi indovina il contenuto di una damigiana di vino piena di tappi il numero di tappi bisogna imbroccare esatto esatto chi imbrocca o chi comunque si avvicina di più viene a cena da noi per due persone ottimo ottimo e dalle prime puntate che cos'è che avete già imparato tanto man mano che si fa io vedo essendo anch'io su queste piattaforme e riguardare le prime puntate mi verrebbe da strapparmi i capelli che non ho i primi vlog che ho fatto però sono fondamentalmente quelli a cui sono più affezionato perché sono quelli che mi hanno fatto partire però vedevo ero totalmente acerbo non sapevo parlare non avevo i tempi e voi cosa avete notato già dalle prime ad adesso così eh vabbè abbiamo fatto un bel salto di qualità comunque ci rendiamo conto comunque riguardando costantemente le puntate cosa si può migliorare cosa si può sistemare o modificare effettivamente step dopo step ce ne andiamo conto che stiamo facendo dei piccoli passi per migliorare le puntate come era giusto che doveva essere ovviamente una prima puntata fatta tanto per divertirci e l'abbiamo fatta con i del frog non a caso perché mi sembra che ci hanno dato una grandissima mano perché sono arrivati a coprire dove noi non riuscivamo ad arrivare con la loro demenza diciamo così bene bene insomma è uscita una bella cosa e ripeto vedo che riscuote interesse la cosa ci fa piacere ecco insomma ci spinge andare avanti insomma sempre e avendo tutti questi contatti con le band che li state e alcuni sicuramente erano già vostri amici altri magari sono band che vi contattano ora immagino che vi sarà venuta l'idea cazzo alla fine sarebbe bello quando si potrà fare un festival con le band che hanno partecipato nella vostra città eccetera non vi è balzata la testa questa malsana idea questa era una di quelle sorprese che volevamo dire stasera che ci stiamo lavorando ci stiamo lavorando perché hanno tutti voglia di portare avanti questo progetto sono le stesse band che ci dicono no ragazzi dobbiamo fare questa cosa e dato che abbiamo questa spinta perché no ci proviamo insomma vediamo cosa riusciremo a fare quando si potrà fare qualcosa e invece quando si potrà portare un pubblico live contenuto di qualche amico in trasmissione la vedete come è una cosa possibile oppure preferite rimanere in realtà si potrebbe fare tutto adesso ovviamente no però effettivamente per la seconda stagione si potrebbe anche pensare di integrare col pubblico che magari insomma interagisce con con le band e comunque con quello che avviene in quel momento no no sarebbe bello ma sarebbe bello anche un'altra cosa che avevamo pensato a farla direttamente tutta dal vivo però dopo come fai ai tempi morti del momento in cui la band deve cominciare a suonare e come infatti sono tutte cose che stiamo vagliando stiamo cercando di capire cosa fare come fare ma se ne parlerà la seconda stagione sì sì prima siamo già belli pieni così sì e contenti dalla mia esperienza andare in live devi come adesso che ho cominciato ad andare in live dopo più di due anni che ero già su youtube eccetera quando vai in live devi avere tutto tutto programmato già oggi che ho dovuto riavviare il computer è stato un casino quindi per andare in live aggiunge molto molto stress a tutti e quindi io ho chiuso la mia ragazza fuori di casa scusate un attimo veramente? sì ok speriamo va tutto bene e continuo a chiederti per quel che fa ridere questa cosa la parte tecnica vi vi arranzate voi oppure avete qualcuno che vi dà una mano? ovviamente siamo una squadra e come squadra lavoriamo abbiamo un regista che è Ruggero del curatelo di Professional Punkers che appunto è regista e ha comunque la telecamera per riprendere abbiamo Andrea del Blue House Studios di Brugherio che si presta comunque con tutti i suoi mixer e i suoi microfoni a registrare tutta la parte live la parte comunque dei giochi cercando di escludere ogni rumore insomma anche quello un grande lavoro di insomma salutiamo Codo poi ci sono i ragazzi di Retail People che vorrei salutare Tommy 27 Francesco Taverna che sono stati ospiti qua da noi infatti ho visto la puntata che hanno ideato giochi diabolici e interviste e poi c'è anche Luca che è il nostro fotografo ufficiale di Grano Zero che comunque completa il format facendo un sacco di foto bellissime e poi c'è appunto le vallette le vallette non escludiamo le vallette c'è il nostro amico Pietro Peroni della Tanna del Berme e la musica che praticamente interferisce anche lui insomma creando sketch nella parte dietro quindi lavoriamo come una squadra per ottenere un buon risultato perché alla fine i buoni risultati non sono mai singoli che li portano a casa ma sono le squadre che lavorano bene sarebbe bello un giorno verso settembre verso ottobre quando potrò venirvi a trovare mentre ho registrato una puntata così faccio un vlog del BNC sarebbe una bella idea sarebbe bello sarebbe bello ci piacerebbe insomma poi comunque ti sentireste a casa ti divertireste di brutto intanto MaxPX 1989 mi fai complimenti per la maglietta siete in tanti che ci lavorate e quindi tutti siete mossi dalla passione perché immagino che un ritorno in tutto questo almeno nel breve periodo non sia fattibile quindi deve essere veramente chi ci mette la telecamera e chi ci mette l'audio i cavi i microfoni quindi complimenti perché siete molti che remate tutti dalla stessa parte eh sì insomma ci siamo appunto trovati tutti insieme insomma abbiamo portato davanti questo progetto non semplice perché comunque di lavoro ne richiede veramente tanto perché in una giornata di registrazione comunque noi siamo lì dalle otto di mattina a sbaraccare il ristorante fino la sera a volte anche alle undici e mezza mezzanotte per pulire rimettere tutto in ordine per il giorno dopo che si torna a lavorare quindi insomma è un bel impegno per tutti ma anche un bel impegno per delle band che comunque si alzano presto alla mattina e anche da vicino insomma hanno deciso di arrivare con la loro passione per collaborare a questo progetto insomma quindi è una cosa veramente che ci ha sorpreso ma probabilmente era solo gran voglia di tornare a suonare in elettrico dal vivo che mancava poi penso che accumularsi in un progetto poi come questo che poi con YouTube è una grandissima spinta perché ti riesci a rivedere quindi provi a fare meglio provi a fare meglio dal punto di vista tecnico dal punto di vista dei numeri e quindi ti incentiva molto YouTube sotto questo è un bel modo di lavorare perché ti spinge come piattaforma a dare un po' al meglio e quindi vai in sfida con te stesso della serie ok adesso ho fatto questo voglio provare un po' a migliorare e quindi a me è sempre piaciuto questo di YouTube in particolare insomma per me che a una certa età queste cose ancora non ci capisco granché però per tutti quelli che collaborano con me che ci mostrano un po' di più insomma ci stanno dando una grossa mano e ci rendiamo sul fatto di dove condividere come condividere quando condividere allora abbiamo un paio di domande dalla chat sono appena arrivato tutti questi discorsi sulla squadra sono legati alla Juventus la risposta è sì sempre forza Juve cioè ragazzi forza spalla ma cosa dai la tieni sto scherzando mentre questa è una domanda molto meno seria no seria cosa ne pensate delle discoteche aperte con gente attaccati come cerdine con certi zero se non acustici non è un controsenso? parla tu parlo io sia un controsenso perché in discoteca per esempio anche noi al ristorante dobbiamo seguire delle norme igienico-sanitarie giustamente molto restrittive e in discoteca non vengono seguite la stessa cosa vale per i concerti live dove devi far sedere la gente oddio anche chi non è dispiaciuto da questa forma di ordine però per noi che amiamo il pogo l'essere a contatto stretto sotto il palco sotto il transenna per essere vicini il più possibile alle casse è una sofferenza fare un concerto in acustico e quindi siamo molto contrariati però purtroppo speriamo che chiudano le discoteche e riaprano i concerti a questo punto è un po' per uno un po' per uno mentre parlando un po' del vostro background che vi ha portato lì musicalmente adesso abbastanza in breve ma dal punto di vista punk rock invece quali sono le vostre basi quali sono stati gli anni che vi hanno fatto partire e e vi hanno formato dal punto di vista musicale prima io prima te prima te che sei più anziano e allora semplicemente io sono nato cioè sono nato quando avevo 15 anni stava nascendo il movimento punk rock lanciato dai Green Day con Duki e il mio primo concerto al filaforum di Asago è stato proprio il concerto dei Green Day quando erano in tour con Duki di che anno sei tu? il basket case 79 si direbbe li porta tutti e insomma da lì è nato comunque il mio amore per il punk rock esatto solo che ho iniziato quindi a ascoltare Green Day sono passato agli Ospring o comunque gruppi molto commerciali e per anni li ho ascoltati fino a che non ho scoperto tutte le altre sfaccettature che c'erano dietro questo movimento quindi band magari più di nicchia o comunque che avevano il loro giro ma erano molto meno commerciali comunque pubblicizzate conosciute come gli NFX da lì mi sono innamorato di quello lasciando praticamente dietro di me Ospring e Green Day che alla fine ancora adesso sinceramente non adoro come band e mi sono focalizzato su tutto quello che era molto più di nicchia io il primo album degli NFX che ho preso era Heavy Petting Zoo e mi ricordo ancora comprato a scatola chiusa nel senso che non sapevo cosa stavo andando a comprare ma dopo la prima canzone Hobophobic per me è stato amore per quella band amore a prima vista e ho visto però che una cosa bella che fate all'interno della vostra attività è riuscire a portare tante tante band all'interno perché quando c'è un day off o quando una band passa in Lombardia voi riuscite molto spesso ad avere ospiti delle band che hanno il piacere di visitare l'Ecole e di venire a mangiare da voi è una bella cosa questa è bellissima ci vogliono un bene alcune band che neanche noi pensavamo perché comunque ci sostengono ci supportano anche dalla California una cosa incredibile ad esempio prima del lockdown c'erano in tour le Bed Cop in Europa e avevano fissato tre day off solo per stare da noi tre day off dopo purtroppo il tour è saltato per colpa del covid però veramente per noi è il raggiungimento di un sogno che insomma magari fin da piccoli quando vedevamo i nostri idoli sul palco pensavamo solo minimamente di avvicinarci per avere una foto con loro magari li trovi nel locale e li cucini anche insomma il coronamento di un sogno per noi e adesso domande vengono naturali per esempio chi viene dall'America eccetera che rapporto ha con la cucina italiana qual è il piatto che usate come rompighiaccio io sono un grande prestatore pur essendo anche visitare della cucina americana però so che è molto differente dalla tradizionale lombarda quindi quale può essere un modo per avvicinarsi in maniera soft agli americani il prosecco il prosecco o lo spritz non serve il piatto un bel americano un bel negroni uno sbagliato no vabbè piatti quando vengono a trovarci facciamo dei piatti molto semplici come può essere anche una pasta pomodoro e basilico un'arrabbiata un aglio olio non so però però delle bruschette col pomodoro fresco il basilico un po' di per loro i gruppi spiegano che durante il tour non mangiano tendenzialmente bene perché non mangiano sempre agli stessi orari molte volte mangiano in piedi nei backstage comunque quello che c'è si mangia e per loro durante un tour sedersi a tavola e mangiare essere serviti i riveriti e mangiare dall'antipasto fino a un buon tiramisù può essere un'esperienza che nell'arco di un mese ti rimane impressa giusto perché il problema è che loro giustamente facendo una vita si può dire da zingari diciamo così nel senso che un giorno sono qua un giorno sono là e si devono arrabbattare non si siedono mai a tavola a mangiare se non nei fast food e quindi per loro la tipica cucina italiana mediterranea è quello che usiamo per per fregarli diciamo così per farci volere bene devo creare l'approccio sì io vedo che c'è ma come del resto noi è una come si può dire uno stereotipo della cucina italiana all'estero ma come del resto abbiamo noi per le cucine che vengono da fuori come identifichiamo il mangiare cinese solo in quello che è il cinese italiano che è quello che fanno nei nostri ristoranti cinesi oppure americani solo hamburger oppure sopra di noi si mangiano solo in progetto solo i pirogi e quindi da noi magari si veniamo un po' identificati come pizza spaghetti e poco altro mentre è un territorio il nostro che a seconda io vedo dove abito io che già dal mare ad andando e verso l'entroterra c'è un menù completamente diverso ma nell'arco di 5 km e quindi vuoi che la vostra è una cucina molto di nicchia era conosciuta oppure è aprita anche un mondo a volte ma diciamo che per le band senz'altro apriamo un mondo perché si trovano piatti inimmaginabili a parte che comunque tante volte a loro è sufficiente dargli l'aceto balsamico che quasi lo mettono anche nel cappuccino in realtà però vabbè però comunque noi come ristorante è una cucina molto localizzata utilizziamo tanti prodotti chilometri zero che magari nell'arco di pochi chilometri come da te cambiano completamente ma magari il piatto può essere lo stesso ma è fatto completamente diverso il chilometro zero che importanza ha per voi? è una cosa su cui puntiamo tanto noi comunque abbiamo tanti produttori locali soprattutto di salumi formaggi che sono sopra le montagne sopra il ristorante che ci servono prodotti di alta qualità di nicchia anche quelli perché magari non conosciuti però sicuramente dà un valore di un sapore unico e il riso anche lì il riso andiamo che un altro fiore all'occhiello del ristorante lo andiamo da un amico che lo produce a comprarlo quindi un riso prodotto da una filiera tutta particolare insomma di una qualità superiore che non si trova in giro ovviamente perché sono cose che andiamo appunto a ricercare figata guarda io sono un appassionato pur non cucinando eccetera però sarei ora a sentire parlare di come si organizza la cucina in chilometro zero eccetera perché dai è un mondo per me molto molto affascinante quindi penso che voi grazie alla vostra passione ed esperienza riuscite anche a infondere poi nei vostri clienti esatto è una cosa che comunque apprezzano veramente tanto è uno dei complimenti più belli appunto che riceviamo sempre è quando le persone ci dicono veniamo da voi a mangiare perché ci troviamo come a casa esattamente come a casa mangiando cose che mangiamo a casa e stiamo veramente bene e secondo noi questo è uno dei complimenti più belli che possiamo insomma ricevere perché non siamo un ristorante magari super rinomato non facciamo piatti super ricercati però i complimenti genuini per come genuina la cucina sono per noi migliori in assoluto e poi c'è da scoprire l'eco che dai è un posto che fondamentalmente non capita di arrivarci spesso o meglio io che ho girato qua per l'Italia e per il mondo e fino a che non sia stato da voi non l'avevo conosciuto assolutamente come città però è molto molto interessante è una bellissima città tra l'altro secondo me è una città fondata sul punk rock perché molte band sono nate ad ecco e la maggior parte poi hanno aperto ristoranti quando hanno smesso di suonare però questo è un altro discorso ad esempio Pensione Libano storica band ormai un po' datata e hanno anche loro un ristorante sulla strada che da l'eco va verso Bellagio a Limonta che si chiama Trattoria da Anna che salutiamo e insomma sotto hanno la sala prove dove ogni tanto si trovano a suonare anche loro ogni tanto fanno delle reunion nel loro locale insomma quindi è molto molto come città insomma marcatamente punk rock poi di tutto quello che è turismo della città vi parlerà Stefano che lui è accompagnatore di turisti everywhere sì vai 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 il lago è molto bello allora il lago riflette le montagne è una pozza d'acqua molto grande no scherzi a parte l'eco è una città prettamente di lavoratori ok però essendo sul lago riesce ad avere la vita lavorativa di giorno e il turismo comunque giornaliero di chi arriva dall'estero per vederla anche perché è una città con una tradizione molto lunga c'è il manzoni i promessi sposi eccetera 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 e comunque tutto ciò che riguarda il lago di Lecco che poi è il lago di Cuomo è prettamente turismo internazionale quindi per le band pensare di venire a fare il bagno sul lago di Cuomo è una cosa impensabile noi per esempio per motivi logistici li portiamo sempre ad Abadi Alariana che è subito il paese di fianco a Lecco che non è neanche uno è un paese si può dire come Rimini dove c'è tanta gente ma non è uno dei più bei paesi che si può trovare sulla costa e li portiamo lì e per loro è quello organizzato meglio come Rimini non è sicuro è la città più bella del mondo ma è quella organizzata per Farcoelle quindi vanno tutti lì esatto e noi abbiamo la fortuna di averlo subito di fianco a Lecco a una decina di chilometri quindi li portiamo lì e loro stanno le ore a fare il bagno nel lago per assurdo chi abita sul lago di Lecco molto difficilmente fa il bagno del lago perché ce l'ha lì tutto l'anno e non se lo gode però sono scenari veramente belli poi da lì quindi da Lecco il sole tramonta sul lago sorge da Lecco il sole tramonta cioè se tu rimani nella sponda di Lecco rimani al sole al tramonto ah figata quindi tramonta dietro le montagne bellissimo di parte merita un altro giro anche sì sì per esempio se fai durante la golden hour il giro del lago di Lecco che vabbè sono un po' di ore ma verso l'ora del tramonto ti fai il giro del lago di Lecco in macchina o in bicicletta è uno spettacolo no no infatti devo tornare adesso sono ingabagnato qua tutta l'estate perché poi lavoro nel turismo la struttura e seguo anche altri appartamenti quindi figurati io adesso lavoro e proprio come voi nei miei momenti liberi accendo la telecamera e mi occupo di youtube eccetera poi mi ricambio e torno a lavorare è bello così riuscirsi a ritrovare lo spazio per le proprie passioni ma questo penso che se lo riesci a fare ti dà la carica per poi affrontare il lavoro più serenamente che penso succeda anche per voi la stessa cosa assolutamente sì 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 è così infatti ad esempio un'altra piccola spoilerata la sigla che abbiamo fatto di Grano Zero TV è nata intanto che io e lui siamo in cucina a cucinare abbiamo scritto il testo e poi siamo andati in studio a registrarlo ma questo tanto per dirti per una comanda e l'altra dove l'avete registrato il testo? l'abbiamo registrato dalla Blue House Studio che è il nostro ormai studio ufficiale di ogni tipo di registrazione che consigliamo vivamente a ogni event perché di dov'è? a Brugherio quindi alle porte di Milano ok ed è consigliatissimo perché comunque c'è Andrea che è un musicista ed è molto preparato è comunque uno studio molto insomma con tutte le cose tecnologicamente avanzate se io poi non me ne intendo di queste cose ma comunque insomma noi lo consigliamo a lui infatti su è riuscito a fare intonato me quindi è tutto a posto hai un progetto musicale io sì dai farloci un po' ma io ho un progetto musicale acustico-demenziale diciamo così dove canto suono Andrea mi dà una mano per quanto riguarda gli arrangiamenti e tutto e niente vado in giro a farmi prendere un po' di insulti vado in giro a prendere un po' di insulti perché quando suono trattando di argomenti molto schietti e molto diretti ho generalmente due tipi di reazioni arriva quello schifato che se ne va immediatamente via alla prima canzone oppure c'è l'ammirazione della persona che dice cazzo ma hai cambiato la giornata era una giornata di merda sei riuscito a farmi ridere quindi per me questo è positivo come la stai vivendo questo momento di dittatura vogliamo la chiamare del politically correct tu che fai è acustico e devenziale quindi immagino che andrai sopra le righe eccetera quindi ora sai com'è bisogna stare attenti a qualsiasi cosa si dice quindi hai un attimo ripensato a quello che fai e hai detto cazzo questa cosa l'ho scritta e dieci anni fa e ci stava adesso una cosa del genere mi darebbero contro è un discorso molto è una linea molto sottile che si cerca sempre di non superare mai però è anche vero che essendo si può dire un artista nel senso che fai quello che ti senti di fare semplicemente prima del concerto o dei live dico non voglio offendere nessuno sono io che sono idiota quindi se qualcosa vi offende non prendetemi sul serio perché è il mio modo di vedere ma però certo si evitano certi argomenti sicuramente io evito discorsi di religione discorsi sessuali nel senso le allusioni ci sono sempre però magari evito discorsi di omofobia perché comunque discorsi politici e discorsi di razzismo poi cerco sempre di colpire magari le abitudini delle persone non so per esempio faccio una canzone su quelli che si scaccolano i semafori però cazzo non è che quando sei in giro li vedi che eravano ci mancherebbe ci mancherebbe che nascesse un movimento scaccolatori anonimi che viene a farmi contestazione però tutto è possibile è tutto è possibile perché giustamente cioè c'è una moralità crescente vedo e magari prima anche una gag che magari vedi in certi vecchi film adesso non so in questi giorni c'è stato Possetto 80 non so se avete visto in televisione quindi c'erano tutti film di Possetto o vabbè comunque si guarda i film comici anni 80 anni 90 il 70% delle battute non si sarebbero potute fare o dire in un film di adesso e quindi questa comicità qui oggi come oggi non si potrebbe fare perché non sarebbe tollerata e questo da un punto di vista un po' mi dispiace perché sì ci vedevi un retaggio che avevano questi comici però non c'era della cattiveria il loro era fare una battuta e il bello che si si poteva prendere in giro tutti era bello invece adesso puoi prendere puoi prendere in giro sempre di meno purtroppo ma anche io vabbè sono cresciuto ascoltando Elio gli Schiantos gli Squallor loro per esempio trattavano argomenti che adesso non potresti trattare però è anche vero che diciamo che la 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 malignità sta nell'occhio nell'orecchio di chi sente cioè di chi vuole perché se uno non vuole sentirci niente di male non lo sente è perché non erano non era una comicità cattiva come gli artisti che hai citato te adesso però adesso non potrebbero farlo perché loro fotografavano anche degli stereotipi e prendendoci perché come dico spesso io ragionando per stereotipi stereotipi purtroppo ci si prende quasi sempre però è così adesso è molto è molto più difficile adesso fare ironia difatti difatti per per quanto riguarda la mediazione dei testi mi dà una mano lui e la mia ragazza perché ogni tanto gli chiedo ma questa cosa la posso dire mi dicono no forse è meglio di no allora mi danno una mano loro perché se no sarebbe tutto molto più più squallido però c'è una nota secondo me è una nota che bisogna dirlo perché nel suo pubblico di nicchia ci sono anche i bambini perché ha fatto una canzone ovviamente studiata per gli adulti ma che piace tanto ai bambini e tutti i nemici che abbiamo in comune che hanno dei bambini a cui fanno ascoltare questa canzone in automatico la cantano sempre poi e la cosa fa veramente ridere perché ha studiato delle canzoni per adulti e poi alla fine si trovano i bambini a cantarle vabbè è una canzone intitolata Ciao Ciao Caca che parla del trauma che si ha quando ci si stacca dalle proprie feci e quindi i bambini però è molto infantile come testo e come melodia e quindi piace ai bambini che mi chiedono me la canti e gli dico no perché non sono io il cantante bello bello sono venute fuori tante cose interessanti quindi quali sono adesso i vostri progetti di più a breve termine con Gherano Zero TV finire la prima stagione cominciare a pensare alla seconda sicuramente adesso abbiamo in programma di finire la prima che siamo più o meno a metà allora uno quanto salame ti stai mangiando la prossima volta lo metto dalla mia parte perché se no me lo finisce tutto ma dopo ma questa era focaccia ah focaccia ah ok no perché pensavo fosse tutto salame e allora ho detto è tanto per essere salame dopo non rimane pesante un po' io sono vegetariano però mi ricordo che il salame rimaneva tornava su no ma noi siamo stomaci importanti ok e no scusate ti ho interrotto perché vedevo che continuare ho detto è tutto salame che si mangia è tanto preoccupato per te e dopo lo mette tutto nella pancia e non va sprecato e adesso quanti episodi sono usciti quattro sono usciti quattro siamo in fase di preparazione di tutti gli altri quindi l'obiettivo primario è finire quello poi come ti dicevo prima ci piacerebbe lavorare per il prossimo anno un festival e il Gran Zero TV Fest e in tutto questo ti do anche un'altra news che vorremmo realizzare una compilation appunto di Gran Zero TV con un pezzo di ogni band che ha suonato da noi digital vinile cassetta videocassetta VHS CD come sarebbe il vostro sogno dai il nostro sogno sarebbe il vinile però insomma probabilmente come prima stagione ci accontenteremo di un buon CD che è anche nella portata di tutti ecco però insomma vediamo vediamo cosa riusciamo a fare se avete 12 band che dopo ogni band si tiene un po' di copie il vinile lo fate tranquillo contattate Simone dai sicuro sicuro che saluto che so che voleva vedere la puntata che ci teneva lui e Simone mi sa che le guarda in di lei e quando le ricarico su YouTube quindi aspettiamoci quando la postiamo su Facebook il commento ci penso io il vinile Simone fagli fare il vinile è comunque bella come idea la compilation anche perché un po' richiama al nostro background musicale adesso non è che è una cosa molto in uso diciamo la compilation però all'epoca ci ha fatto conoscere tante band esatto esatto poi comunque è anche un po' anomala tra virgolette perché comunque i pezzi sono tutti registrati in live come buona la prima quindi ci sarà il pezzo più bello meno bello quello fatto meglio quello fatto peggio la nota stonata l'acuto sbagliato ma comunque fa molto punk e quindi è bella così ah sì perché Andrea di Blue House Studio è un dittatore dice buona la prima o basta io non registro più no non è vero sto scherzando però la facciamo in buona la prima per fare proprio una cosa di spirito punk ma bevono prima le band di suonare sì sì mangiano anche polenta salamella lasagne aspetta aspetta lo so durante la serata ma nel momento in cui fanno i pezzi sono già bevuti e già mangiati già perché a mezzogiorno ci sediamo ovviamente Alessandro fa da mangiare per tutti come una una buona mamma direi più nonna vista l'età però vabbè e che bella nonna grazie si mette il grembiolino fa da mangiare a tutti e quindi a mezzogiorno ci sediamo tutti quanti insieme a mangiare come una famiglia e ovviamente mentre si mangia vuoi non bere il vino quindi la band arriva su cioè tanto lo so come vanno a finire arriva fa l'aperitivo mangia sono messi a merda e dovrebbero cominciare a suonare e quando e poi dicono non c'è il pubblico quindi possiamo fare quel caso che vuole quindi le canzoni ho già capito come sono state in realtà abbiamo trovato dei professionisti del bancone quindi non si ubriacano non si ubriacano no sono tutte molto professionali le band quindi bevono quel giusto ecco ok comunque la cosa bella è che tra un pezzo e l'altro si girano e ci dicono ho appena digerito la salamella ma è bello così insomma ma è bellissimo così perché abbiamo creato una cosa troppo bella ragazzi sono molto contento di quello che avete creato e del fatto che si vede il vostro entusiasmo nel farlo quindi state facendo una cosa bella per le band per la community in generale e soprattutto per voi quindi mi sa che è un win 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 e allora va a fanculo è perfetto così esatto esatto alla fine siamo tutti contenti ma veramente tutti ottimo ragazzi io vi ringrazio per essere stati ospiti da me e caricherò l'episodio se vi va bene su youtube in un paio di giorni e per ottobre e quando avete il calendario mandatemelo che vedo quando una domenica che posso venire a trovarvi dai volentieri volentieri così vedi un po' tutto il backstage e il retroscena di quello che avviene in una puntata e facciamo il bis di pizzoccheri andata andata oh grazie ragazzi alla prossima grazie dell'ospitalità grazie Andri a voi e grazie a tutti i ragazzi della chat è stato un piacere ciao ragazzi ciao 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 ciao